rapporto redfield correlazione fra azoto e fosforo quindi nitrato fosfato e carbonio ciao a tutti i ragazzi bentornati a questo nuovo video bentornati sul canale ve lo dico all'inizio iscrivetevi al canale per supportarci in maniera gratuita e niente possiamo iniziare a parlare di rapporto redfield ma nella fattispecie vorrei parlarvi di una mia esperienza passata anche se mi è ritornata alla mente dopo l'ultima live cioè la live numero 11 di qualche giorno fa dove abbiamo appunto parlato di alghe e alcune problematiche che vanno ad affliggere sia gli acquari marini che gli acquari di acqua dolce nella fattispecie vi riporterò la mia esperienza avuta con l'acquario marino questo acquario marino ed è per questo che siamo qui a fare il video allora il discorso qual è prima di parlarvi di rapporto redfield vi racconto questo aneddoto che secondo me è esplicativo e mi fa sicuramente rendere l'idea molto prima allora in parole povere è successo che molto molto tempo fa prima ancora forse di avere gli sps che vedete in questa vasca questa è la vasca di sps dove abbiamo fatto diversi video e qualcuno se riuscirò lo metterò nelle schede è successo che ho avuto dei nitrati alti per lungo tempo alti non altissimi ma comunque intorno al 20 mg 25 alcune volte 30 e altre volte ancora più alto non non si riusciva a venirne capo nonostante come scuola diciamo arrivo da una scuola di riproduzione batterica con fonti di carbonio quindi inserimento di batteri giornalieri come alcuni di voi sanno e fonti di carbonio per il sostentamento degli stessi allora nella live abbiamo parlato ho fatto una piccola parentesi per quanto riguarda il carbonio che ha una strettissima correlazione con il rapporto redfield a questo proposito voglio dirvi che praticamente nitrato altissimo quindi 20 20 25 30 e anche di più ci sono stati degli sprazzi di nitrato altissimo è un fosfato sotto i piedi quindi 1001 quando hai uno sbilanciamento del redfield così elevato al di là delle problematiche algali e altre esiste poi una soluzione la sapevo cioè conoscevo appunto il rapporto redfield ma ho voluto insistere sono andato avanti per un mese o due così per vedere appunto se potesse cambiare qualcosa nonostante anzi proprio in virtù del fatto che non avevo animali estremamente esigenti o delicati ho voluto provare arrivare praticamente quasi a 0 o 0 di fosfato con la riproduzione batterica ma era limitata cioè arrivava fino lì e non si muoveva più quindi ti portava a uno 0,000 qualcosa il fosfato praticamente uno zero sul fosforo o quasi è un nitrato molto molto elevato perché ho capito tramite questo esperimento questo aneddoto che aneddoto che vi sto raccontando la questione che quando il fosfato è molto molto basso i batteri quelli che andiamo poi a schiumare chi di voi conosce la riproduzione batterica non me la spiego in questo video perché diventerebbe troppo lungo ma è destinato appunto a chi di voi usa la riproduzione batterica poi su richiesta faremo anche un video chi non conoscesse la riproduzione batterica lo facciamo volentieri questo per farvi capire che i batteri praticamente se non in presenza di fosforo all'interno della vasca non andavano a assimilare il nitrato quindi la soluzione qual è stata quella che già conoscevo in principio ma ho voluto avere la riprova quindi perseverare su una strada che sai già che sbagliata per fare un esperimento e poi fare una pubblicazione tra virgolette non siamo scienziati dove possiamo pubblicare su certi diciamo piattaforme ma su youtube o su alcune relazioni che andiamo a scrivere di conseguenza quello successo abbiamo inserito del fosforo quindi esistono dei prodotti che ti vanno ad aumentare il fosforo il fosforo per chi di voi non lo sapesse è una parte diciamo si può tramite dei calcoli decifrare sul fosfato la quantità e abbiamo inserito dentro appunto questo fosforo man mano che inserivamo il fosforo vedevamo che il nitrato scendeva questo è appunto per dirvi per parlarvi del rapporto redfield che cita 1.016 parti di carbonio 16 di azoto e una parte di fosforo appunto cosa vuol dire quando questa triede sbilanciata diventa difficile manovrare tramite chimica tramite batteri tramite qualsiasi cosa all'interno di una vasca quindi noi inserendo del carbonio abbiamo inserito del carbonio ma nonostante facessimo la riproduzione batterica con un fosfato sotto i piedi in nitrato quindi la parte di azoto non si schiodava da dove era abbiamo quindi dovuto rialzare il fosforo quindi con inserimenti massicci e vi assicuro che le boccette qui dentro volavano di fosforo ce ne andavano veramente tante anche perché abbiamo appunto diciamo insistito su quella strada e man mano che inserivamo il fosforo non vedevi comunque l'innalzamento del fosfato ma vedevi scendere il nitrato non lo vedevi il innalzamento del fosfato semplicemente perché man mano che lo inserivamo all'epoca veniva direttamente assimilato ma vedevi scendere completamente ma a ritmi veramente veloci e si parla di tre quattro giorni una settimana 10 20 mg per litro di nitrato questo aneddoto deve farvi capire in riferimento a moltissime domande e all'escursus cioè a quella parentesi che ho fatto nella live numero 11 vi ricordo andate a vedere metterò sicuramente la scheda il link qui sopra che anche qui per smontare alcuni dogmi mi è capitato diverse altre volte che alzando soltanto il carbonio quindi persone che non mettevano carbonio liquido in vasca per sfruttare riproduzione di batteri camiosintetici facoltativi eterotrofi eccetera eccetera si riposiziona tutto quindi la natura è da un certo punto di vista quasi come se fosse un laboratorio di massimo livello però ci dà veramente a volte tanti aspetti da riuscire a provare a studiare a decifrare e a capire e ovviamente mettere in pratica o testare per avere appunto la riprova e per avere una piccola via diciamo una piccola tesi su quello che può essere il nostro la nostra esperienza con questo frangente del neo 3 più 4 ma soprattutto per quanto riguarda il rapporto redfield nella live abbiamo appunto anche parlato del della questione alghe io vorrei dire che secondo me 60 70 per cento se non oltre viene appunto sia sul marino pochino meno sul dolce ma anche sul dolce succede da questo rapporto completamente sbagliato e il carbonio non possiamo misurarlo è vero però diamo per certo che viene assolutamente assimilato è uno degli elementi elementi in natura che viene più assimilato di tutti sia in acqua dolce sia in acqua marina di conseguenza andiamo a integrarlo senza misurarlo perché non è possibile almeno con i nostri mezzi non è possibile andiamo a misurare gli altri due che stanno per come la vedo io come schema mentale di lato e vedo il carbonio in mezzo non so se può essere un'idea anche se nello schema sarebbe cnp quindi carbonio azoto e fosforo però in linea di massimo io vedo così quindi vado a alzare carbonio o alzare nitrato e fosfato in nitrogen cioè il l'azoto normalmente non mi è mai successo fosse estremamente basso da non riuscire a abbassare il fosfato su questa vasca è successo in altre di alcuni alcune persone che seguiamo come come acquario e quindi anche in quel caso abbiamo dovuto alzare l'azoto o comunque cercare di somministrare più cibo anche se non è proprio l'ideale perché si dà per scontato che comunque quando hai uno sbilanciamento sul redfield comunque stai alimentando la vasca quindi non è quello che vai a perché non riesce a stabilire quanto alzo di fosforo quanto alzo di azoto riesci solo a stabilire che alzo in genere i nutrienti o gli inquinanti appunto bene ragazzi questo è stato un video estremamente tecnico ma ci tenevo molto a farlo cioè praticamente chi approccia la coreologia di questo video se ne farà poco perdonatemi insultatemi se vi fa diciamo piacere però ci tenevo a farlo solo per correttezza e per espansione di questa undicesima live che comunque seguiranno veramente tanti tanti video perché l'argomento è davvero complesso non possiamo fare per chi me lo chiede molto spesso non possiamo fare delle schede uniche per tutti semplicemente per questi aneddoti ogni acquario è davvero diverso dipende moltissimo dalla tecnica dal tipo di prodotti da troppe 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 cose e di conseguenza viene estremamente dico difficile il termine più giusto sarebbe impossibile non riesco a dirti alza il cappacca va tutto bene sono veramente tanti gli elementi e tutti quanti conviene andarli a misurare e farsi esperienza propria ognuno di voi deve farsi la propria cultura esperienza per riuscire poi a capirci qualcosa ecco perché quando venite qui abbiamo un foglio con le date tutti i test e tutto quanto perché quelle date quei test devono poi ricordarti accenderti la lampadina qui era così qua poi è andata così e qui è andata cosa di conseguenza fai una strada e da lì poi riesce a capire e a gestire la tua di vasca ovviamente non per tutti deve essere così la maggior parte no diciamo un 50 50 dei nostri clienti fan allievi non so bene quale termine utilizzare li seguiamo noi facendogli test andiamo settimanalmente o mensilmente a casa a far tutto quello che è ma diciamo che questi video sono fatti più che altro per chi vuole imparare a gestirsi da solo la vasca da solo vuol dire non che inizi da zero e arrivi a 100 da solo no da solo vuol dire che fai un percorso un specie di academy che tra l'altro mi piacerebbe molto fare in futuro ma comunque sia arrivi a capire determinate cose e poi puoi procedere a gestirti la vasca ovviamente sempre sotto supervisione quindi ragazzi vi ricordo che l'appuntamento della live del lunedì sera sarà spostato al martedì per una questione lavorativa se poi volete se vi interessa ve lo spiego il perché quindi martedì sera ore 20 solito orario le nostre live e niente seguiteci sulle nostre pagine facebook instagram trovate le mail sempre in descrizioni solo per richieste commerciali non chiedeteci informazioni cioè consulenze così eccetera eccetera domande consigli perché non riusciamo a stare dietro a tutti mi dispiace il luogo più giusto per farlo è appunto il martedì sera alle ore 20 nelle live quando riesco rispondo volentieri come avete visto nelle scorse live seguiteci quindi anche sul canale mettete mi piace al video condividetelo iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdere tutte le nostre prossime notifiche e video io vi ringrazio per essere mi state ad ascoltare vi saluto buon acquario a tutti ciao